Al via oggi la preparazione dei calciatori della CR Messina in vista della prossima gara che i giallorossi disputeranno in trasferta domenica 12 marzo alle 14.30 contro la Casertana. Sarà un match sicuramente impegnativo contro una squadra che punta a disputare play-off. I campani domenica hanno subito una pesante sconfitta per 3-0 in casa della Regina e vorranno riscattarsi a tutti i costi. Il Messina dal canto suo vuole invertire il trend in trasferta che la relega tra le peggiori squadre della Lega Pro. Anche il tecnico Luca Relli è consapevole che la salvezza dovrà passare inevitabilmente da qualche vittoria esterna e domenica andrà a Caserta per tentare il colpaccio. Il Messina adesso ha dalla sua parte una tranquillità mentale che può far concentrare giocatore e tecnico solo sul rettangolo verde. La nuova proprietà ha dato segni tangibili di serietà e di organizzazione in tutti i settori. Certo, il lavoro da fare è enorme ma i nuovi soci non sono affatto scoraggiati e sono certi che pian pianino raggiungeranno i risultati prefissati. Oggi alle 15 i calciatori saranno allo stadio celeste per effettuare la solita seduta di allenamento d'inizio settimana con carichi differenziati tra coloro i quali hanno preso parte alla gara contro il Monopoli e chi non ha giocato. I tifosi che vorranno assistere all'allenamento potranno farlo. La società ha infatti deciso che tranne per la seduta di rifinitura le porte allo stadio per loro saranno sempre aperte.